Benvenuti nel nostro video tutorial. I fulà 50x50 personalizzati sono l'articolo base dei nostri fulà, il più comune e utilizzato. Sono prodotti in morbidissimo ponge, finemente orrati con macchina piana, stampati in sublimazione digitale senza alcun limite di colore in modo da esaltare immagini scritte. Come vedete con pochi euro, senza pagare alcun costo di impianto né di avviamento macchine, da noi potete realizzare un vero e proprio articolo di moda, che non sarà seta ma viene comunque molto apprezzato. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video tutorial.